Riaprono le scuole. Il 15 settembre in tutta la regione riaprono le scuole. Il riaprire le scuole è un momento cruciale nella vita di una comunità, perché è la scuola poi che dà il ritmo vero alla vita di una comunità. Perché è la scuola dove le famiglie si incontrano, dove i bambini entrano bambini e crescono e escono uomini, perché è la scuola che di fatto mette insieme tutti coloro che vogliono essere parte di una comunità. Pensate, nella nostra comunità scolastica ci sono più di mezzo milione di studenti, dalle scuole elementari fino alle scuole superiori. E poi a queste aggiungiamo i bambini che vanno alle scuole dell'infanzia, aggiungiamo le persone, tante, che vanno nel sistema di formazione professionale, aggiungiamo tutti gli studenti universitari e poi ci sono circa 50.000 insegnanti e poi ci sono 13-14.000 persone che lavorano e permettono tutti i giorni di aprire la porta della scuola e poi ci sono tanti insegnanti universitari e tante persone che lavorano nel mondo della scuola e quasi un milione di persone che con le loro famiglie fanno circa metà della nostra regione Emilia-Romagna. A tutti questi un augurio, il ricordare sempre che la scuola è una comunità educante, cioè è un luogo in cui tutti vanno per imparare ed è anche un luogo in cui si impara soprattutto al vivere assieme. Vivere assieme è oggi il nostro obiettivo, è il nostro modo, è l'essenza stessa della nostra vita collettiva. Vivere assieme si impara a scuola, la scuola che oggi ricomincia e la scuola a cui la regione Emilia-Romagna, il suo presidente e Dio stesso che ho l'orgoglio di essere l'assessore della scuola dell'Emilia-Romagna, vi manda il più caloroso dei nostri auguri. Buona scuola!